Chiudere il caso e salvare i rapporti con l'India è l'obiettivo del ministro degli esteri Emma Bonino che si è espressa sulla vicenda Marò. I due fucilieri del battaglione San Marco in India ormai dal 15 febbraio 2012 sono lontani dalle famiglie il tarantino Massimiliano Latorre e il suo collega barese Salvatore Girone da un anno ed otto mesi. E forse solo oggi sembra aprirsi uno spiraglio per loro, all'indomani cioè dell'interrogatorio presso l'ambasciata indiana a Roma dei quattro fucilieri che quel giorno erano sull'Enrico Alexi con i due Marò, detenuti a Nuova Deli con l'accusa dell'omicidio di due pescatori. I quattro militari sono stati ascoltati in videoconferenza, sono Renato Voglino, Massimo Andronico, Antonio Fontana e Alessandro Conte, accompagnati all'ambasciata dall'inviato del governo italiano Staffan De Mistura e da Carlo Sica, l'avvocato che segue i legali indiani di Latorre Girone. De Mistura e Sica non hanno assistito all'interrogatorio dei quattro che è stato condotto dalla NIA, l'agenzia indiana che si occupa di antiterrorismo. Sono ore di speranza queste, si diceva, ed il caso sembra muoversi verso la soluzione. Anche l'India, come l'Italia, ha fretta di chiudere presto il caso Marò, garantisce Labbonino. Vogliamo chiudere presto l'incidente e rilanciare i nostri rapporti commerciali con l'India, un paese, conclude, che non possiamo perdere.